Siamo con Callari della Virtus Cisterna, è stata una mattinata sfortunata, però dobbiamo dire che questo torneo, già da due mesi che è cominciato, sicuramente sta divertendo molto i ragazzi. Sì, poi è importante a questa età, l'ha detto lei, l'importante è il divertimento, poi mattinata sfortunata l'importante è che i ragazzi giocano, imparano e si divertono, certo, poi se uno c'è il risultato non è questo, l'obiettivo è che devono imparare divertendosi e questo deve rimanere per loro sempre un gioco. Come penso, come è scritto da tante parti, i ragazzi hanno il diritto a non essere un campione ma a divertirsi. Comunque penso che ci rifaremo perché piano piano cresceremo anche noi.